Tra le province di Cremone e Mantua, il Parco Olio e Sud, il suo fiume, le sue lanche, le zone umide che lo caratterizzano da tarda estate e per tutto il periodo autunno-inverno, sono l'habitat ideale per molti uccelli, per creare dei dormitori notturni collettivi. Capita infatti di vedere centinaia di aironi, cormorani, ibis, gabbiani, storni, cornacchie, radunarsi per trascorrere tranquilli le sere. Il rust è un sito generalmente indisturbato, più comunemente è un bosco o un filare circondato o vicino all'acqua, ma può essere anche un cannetto in ambiente umido, un'isoletta di sabbia o chiaia in ambiente fluviale o marino. L'importante è che dia sicurezza nei confronti di potenziali predatori, che sia riparato dal disturbo e offra buone condizioni microclimatiche. La strategia di gruppo è proprio quella che permette di avere un sistema più efficace di controllo sui potenziali pericoli. Un esempio di dormitori caratteristici per il nostro territorio sono quelli costituiti principalmente dalle tre specie di aironi di colorazione bianca, cioè tendoleone guardabuoi, l'aeroni biancomaggiore e la garzetta, a cui si aggiungono i cormorani e da pochi anni anche i loro parenti più piccoli, i marangoni minori. Sempre negli ultimi anni non è difficile scorgere anche la presenza degli ibis sacri all'interno dei dormitori. Il luogo del dormitorio può essere anche cambiato nel corso degli anni o della stessa stagione autunno-invernale. Mi è capitato di seguire alcuni rust in zone umide di acqua ferma, come quelle delle lanche dei nostri fiumi. Quando l'inverno avanza queste zone umide possono ghiacciare. Ecco che il dormitorio lì scompare. Gli animali preferiscono spostarsi in riva al fiume, dove la superficie acquatica rimane libera. Evidentemente si sentono più sicuri, oltre ad avere le acque libere un pelino più calde, che influenzano di qualche grado la temperatura ambientale.